Arresti per droga in Marsica e ad Aquila, in manette sono finiti quattro giovani. Nuovi assunti in garanzia over, via libera della regione per 132 persone. Gran fondo nel Parco Abruzzo, ho presentato oggi la manifestazione dall'assessore Paolucci. Calcio Serie D, pareggiano l'Avezzano in casa e l'Aquila fuori casa. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2, in apertura di giornale alcune notizie di cronica per la precisione arresti per droga. In manette, per furto aggravato in concorso, si tratta di due marocchini, irregolari e senza fissa dimora, Mohamed Oklabli, 31 anni, e Mohamed Addavi, 34 anni. I militari, nella tarda serata di ieri, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, li hanno sorpresi a trasacco in piazza Macine dopo aver forzato la portiera lato guida di una Peugeot. Ne stavano asportando l'intero blocco Wi-Fi e il navigatore saletellitare. Alla vista dei militari, i due hanno tentato mavanamente la fuga, venendo poco dopo raggiunte e sottoposti a perquisizione personale, che ha permesso di invenire, oltre a quello appena trasportato, altri due impianti stereo per l'autovettura, ritenuti provento di un furto, che saranno restituiti agli eventi di ritto al termine delle verifiche per accertarne la proprietà. Gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Avezzallo, a disposizione della Procura della Repubblica. E dalla marzi che ci spostiamo ad Aquila, ieri sera, nell'ambito di un servizio di prevenzione generale, nella immediata periferia dell'Aquila e nello specifico, mirato alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di droga tra i giovani, il personale della squadra volante ha notato due ragazze intenti a scambiarsi della sostanza stupefacente. Prontamente intervenuti, sono riusciti a fermare il giovane che materialmente stava cedendo la sostanza, mentre l'altro, accortosi del sopraggiungere degli agenti, si è dato immediatamente alla fuga a bordo di un ciclomotore. Il ragazzo fermato, un 19enne di nazionalità romena, è stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di ascisce e di un coltello con la lama sporca di residui della sostanza stupefacente, utilizzato per tagliare le dosi a seconda della necessità dell'eventuale acquirente ed è stato tratto in arresto. La perquisizione, estesa anche al suo domicilio, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione digitale atto al confezionamento della droga e dell'altro quantitativo di sostanza stupefacente. Il materiale è stato sequestrato. Dopo una rapida attività investigativa, gli operatori sono riusciti ad individuare colui che riforniva abitualmente il giovane romeno della droga con la principua finalità di spacciarla. Si tratta di un 18enne di nazionalità moldava. Gli agenti della volante a questo punto hanno proceduto alla perquisizione del giovane moldavo che è stato trovato in possesso di droga di un bilancino di precisione digitale, di un coltello atto a tagliare la sostanza e di un quantitativo di denaro contante suddiviso in vari tagli. In relazione a quanto sequestrato e dalle dichiarazioni rese dall'altro arrestato che hanno avvalorato il rapporto di collaborazione tra i due spacciatori, il personale ha proceduto anche all'arresto del giovane moldavo per il rato di detenzione in spaccio di sostanze stupefacenti. Terzo elenco di assunzioni per garanzia over. Sul sito Abruzzo Lavoro Unione Europea è stato pubblicato il terzo elenco delle aziende alle quali è stato riconosciuto il beneficio economico per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati con età superiore a 30 anni. In particolare l'elenco si riferisce a quelle aziende che hanno presentato la propria candidatura e quindi dunque l'indicazione del nome del lavoratore da assumere nel periodo dal 14 al 31 dicembre. L'elenco dà il via libera ad ulteriori 132 assunzioni che si vanno ad aggiungere alle 408 già finanziate nei precedenti due elenchi, quello del 5 dicembre che va dal 6 al 13 dicembre per un ammontare complessivo che sale a 540 assunzioni. È un dato straordinario, ha commentato l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerasolimo che conferma l'interesse delle aziende per una misura che incentiva il lavoro a tempo indeterminato. A sei mesi dal lancio prosegue l'assessore, garanzia over fa registrare ancora un interesse alto sia tra gli imprenditori sia tra i disoccupati e questo ci ha spinto a finanziare e rifinanziare con altri 2 milioni di euro la misura del Fondo Sociale Europeo. I 4,8 milioni di euro allocati in avvio del bando infatti sono andati esauriti con la pubblicazione del terzo elenco. Da qui la necessità di bilancio di una variazione con altri 2 milioni di euro per avvenire incontro alle istanze presentate dal 1 gennaio 2017. La misura non scade, aggiunge Gerasolimo, e l'andamento che si registrerà nei prossimi mesi ci spingerà a valutare un ulteriore incremento dei fondi oltre i 2 milioni già stabilito. Oggi pomeriggio, nella zona nord della città di Avezzano, è stata inaugurata una piazza dedicata ai caduti dei Vigili del Fuoco. Si è trattato di una cerimonia semplice ma altamente significativa che ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche, militari, di rappresentanti delle associazioni d'arma, del volontariato e di numerosi cittadini. In particolare sono stati presenti il sindaco di Avezzano Gianni Pangrazio, il sottosegretario di Stato agli interni Paolo Bocci, il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Domenico de Bartolomeo, sindaci della Marsica, i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Naturalmente presenti, come vedete, numerosi rappresentanti dei Vigili del Fuoco anche di altre province. Il ceppo è stato benedetto dal parroco Don Antonio Salone. Nella piazza, che come detto ha preso la denominazione di Largo Caduti dei Vigili del Fuoco, è stata scoperta una stella di pietra ed una targa commemorativa. L'importante riconoscimento ha sancito un profondo legame di amicizia e di collaborazione tra le amministrazioni comunali della Marsica e i Vigili del Fuoco di Avezzano, che mai hanno fatto mancare al territorio il fondamentale e tempestivo intervento nelle situazioni di bisogno. Le immagini naturalmente serviscono a questa cerimonia. A riguardo, rannunciamo, che nel corso del telegiornale di domani, venerdì, trasmetteremo un nostro servizio. È stata presentata questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo la seconda edizione della Gran Fondo nel Parco Nazionale d'Abruzzo. La manifestazione di ciclismo, che richiama molti appassionati delle due ruote, è in programma il prossimo 25 giugno a Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila, ed il suo circuito, che prevede un dislivello di 1730 metri, abbraccia dieci comuni incardinati nell'area protetta per un totale di 107,500 chilometri. È previsto anche un mini percorso definito Gourmet di circa 43 chilometri. La manifestazione è patrocinata dall'assessorato regionale allo sport. È un evento ciclistico collaudato che ha una caratteristica, promuovere il territorio e le sue eccellenze, ha esordito l'assessorato sport Silvio Paolucci. Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, abbiamo voluto collaborare nuovamente con gli organizzatori, perché la manifestazione, che vede al via molti appassionati, providenti da ogni regione d'Italia, rappresenta un volano straordinario di promozione per i piccoli centri montani diseloganti lungo il percorso. La regione, osserva ancora Paolucci, ha investito molto nel ciclismo con eventi maggiori, come il Matteotti ed il Giro d'Italia, ed altri di carattere cicloturistico, che coinvolgono tantissimi appassionati di ciclismo. La Gran Fondo è patrocinata anche dal Touri Club italiano. A riguardo due interviste. Assessore Paolucci, seconda edizione della Gran Fondo nel parco, un momento di forte incentivo alla promozione del territorio e non solo. Il cicloturismo è certamente un pezzo del futuro della promozione del territorio, di tutte le comunità, in particolar modo della regione Abruzzo, che sta investendo molto su questo fronte, e con degli investimenti corposi, sia di infrastrutturazioni materiali, ma anche immateriali, con delle iniziative molto significative come queste. E poi un ringraziamento ovviamente all'amministrazione comunale di Villetta Barria, ai comuni che mettono insieme un percorso promozionale del proprio territorio davvero significativo, che lega sport e turismo e che soprattutto investe sulle due ruote. Assessore Paolucci, il 2017 è un anno particolare per la regione, si investe molto sul ciclismo. A maggior ragione nel 2017, che ha rappresentato soprattutto nel mese di gennaio un tempo complicato per l'immagine di questa regione, ecco, tornare a investire, dare forza a questo tipo di iniziative, a mio avviso è davvero significativo per dare spazio a un'importante leva di sviluppo, quale è questa regione, che è una regione bellissima da vivere, una regione bellissima dove vivere, quindi io penso che debba essere fatto così. I Villetta Barrea, la Gran Fondo non è solo una gara ciclistica, ha detto, ma una complessa operazione turistica. Esatto, sì. Non dobbiamo assolutamente trascurare, anzi dobbiamo far leva sugli aspetti turistici che una tale manifestazione può comportare, che avranno sicuramente un maggior peso per quest'anno, per questa seconda edizione, alla luce di tutte le problematiche che sono state vissute. Anche noi, indirettamente, abbiamo avuto delle problematiche che tutta la regione Abruzzo chiaramente ha attraversato e per le quali siamo assolutamente solidali. In questo momento vogliamo far leva sulle nostre potenzialità, sulle nostre forze, sulla nostra capacità di coesione territoriale per promuovere un evento che possa diventare davvero un evento con la E maiuscola e che possa essere conosciuto anche al di fuori dell'Abruzzo. Già siamo partiti nella precedente edizione con circa 600 iscritti, quindi questo ci fa ben sperare per quest'anno. Villetta Barrea è un paese di 600 abitanti per cui potrebbe anche far paura questo numero, ma noi non ci lasciamo assolutamente intimorire, anzi siamo già al lavoro da diversi mesi per far sì che tutto sia organizzato nel minimo dettaglio. Nei problemi di monitoraggio e ricerca scientifica 2015-2016, posti in essere nell'ambito dei piani di gestione della riserva Monte del Salviano di Avezzano, sottolineiamo ed evidenziamo di come dalle tracce raccolte e dalle evidenze emerse nel corso delle nostre attività riteniamo più che probabile la presenza del plantigrado nell'area protetta. Purtroppo, campagne di avvistamento e appostamenti ripetuti non hanno avuto la fortuna di poter cogliere l'attimo e riuscire a fotografare un esemplare nel suo naturale errare per l'area protetta avezzanese, ma l'incontro dei giorni scorsi certifica che dà corpo a quella che ormai non è solo una speranza, bensì una certezza, ovvero l'orso marsicano attraversa questo importante corridoio ecologico fra il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sidente Velino. A questo punto, ad implementare le azioni di controllo e verifica degli assi di spostamento, sarà cura della riserva e dell'Associazione Ambienta e Vita Abruzzo Onlus di promuovere l'attivazione di misure di studio specifico ed interventi di prevenzione a tutela di questa specie di rilevanza internazionale. Vale la pena specificare che erano già allo studio misure di salvaguardia stradale al fine di fronteggiare eventuali attraversamenti e misure volte a garantire uno spazio vitale idoneo a garantire al plantigrado nel caso in cui fosse riuscito a certificare in modo assoluto la sua presenza. Nelle prossime ore, la riserva promuoverà una implementazione dell'azione di monitoraggio su di una specie più ristretta ed identificata come la possibile area di confluenza posizionando ulteriori fototrappole in un raggio di qualche chilometro. Nel contempo si avvieranno tutte le necessarie misure di informazione al pubblico e si darà corso ad uno stringente rapporto con le autorità competenti il Parco Nazionale d'Abruzzo e gli enti di ricerca. La comunicazione è della coordinatrice dell'attività della riserva e del coordinamento della segreteria regionale Brunella D'Alessandro e Silvia Di Paolo. Procedono a pieno ritmo ad Avezzano i lavori per il completamento del programma di messa in sicurezza e ristrutturazione degli oltre 350 km di strade cittadine. L'imponente piano sulla viabilità avviato da oltre due anni dall'amministrazione di Pangrazio si arricchisce di altri preziosi tasselli ed accorce le distanze per la riconsegna alla città di una rete viaria sicura ed efficiente. I nuovi lavori interessano la frazione San Perino a partire da via Verrazzano che nei giorni scorsi è stata depolverizzata e di cui è attualmente in atto l'asfaltatura mentre i lavori di ripristino del manto stradale e di tratti di cordoni sono in corso in via Marco Antonio Colonna da via Nicola Paganini a via Teramo. Ancora importanti lavori di ripristino del manto stradale con depolverizzazione e asfaltatura in via Santissima Trinità tra i punti cruciali della viabilità cittadina. La messa in sicurezza e il ripristino delle strade cittadine sono per noi una priorità sottolinea il sindaco Giovanni Di Pangrazio. Abbiamo riavviato i cantieri in città dopo decenni di letargo e dal centro alle forrazioni prosegue l'opera di rinnovamento di Avezzano che io e la mia squadra portiamo avanti a ritmo serrato. Mettere mano a più di 350 km di strade e di infrastrutture connesse non è una impresa da poco ed è su questa rotta che continueremo. E ora passiamo sempre ad Avezzano ma alla politica con due note dei maggiori schieramenti che si presentano ai nastri di partenza per le prossime amministrative. Avezzano è giovane scende in pista al sostegno del sindaco Giovanni Di Pangrazio e per dare concretezza al loro pensiero candidati e supporter si sono presentati in massa a Palazzo di Città con tanto di simbolo Avezzano giovane appunto e slogan la voce delle idee per formalizzare la loro voglia di contribuire alla gestione di rilancio di Avezzano capofila della Marsica. Vogliamo essere coprotagonisti del nostro futuro qui a Avezzano hanno sottolineato i giovani componenti dell'associazione senza condizionamenti né ingerenze dall'esterno. Vogliamo creare un'alterazione un'interazione ed un dialogo sano e vivo tra tutte le persone animate da spirito costruttivo voglia di fare ed amore per il proprio territorio. Il nostro impegno sarà quello di preservare e migliorare il posto in cui siamo nati a prescindere dai colleghi politici e dalla nazionalità di provenienza. Siamo per l'Unione e per tutto ciò che fa bene alla collettività. La folta delegazione ha messo sul tavolo alcune idee da inserire nel programma elettorale della coalizione con in cima alla lista la creazione della consulta giovanile dello sportello giovane di un'entità giuridica con finalità di utilità sociale per supportare il comune nella gestione di realtà culturali presenti nel territorio nonché lo sviluppo di iniziative scuola formazione e lavoro. L'associazione Avezzano Giovane ha manifestato l'intenzione di organizzare incontri e dibattiti in tutti i luoghi di Avezzano città e delle frazioni. Sicurezza prima di tutto basta col ballo dei numeretti monitoraggio continuo sugli edifici pubblici cittadini e massima efficienza per completare subito i lavori in tutte le scuole di competenza del comune di Avezzano. Sono stati questi i temi centrali toccati ieri sera dal candidato sindaco Gabriele De Angelis in un incontro presso il teatro parrocchiali San Rocco avuto con un fotogruppo di genitori e con il comitato scuole sicure di Avezzano. all'incontro ha partecipato anche Simona Santullo membro e rappresentante dello stesso comitato credo di aver dimostrato la mia sensibilità e la mia voglia di fare su questo tema già quando ero assessore in pochi mesi ha detto De Angelis riuscì ad ottenere la delibera per far sì che si desse il via al programma di messa in sicurezza delle scuole fino a quel punto i tempi furono giusti ed opportuni ora innanzitutto dobbiamo garantire che la sicurezza sia la priorità per il comune nei confronti dei ragazzi e di chi lavora in tutti gli edifici pubblici cittadini per le scuole dobbiamo fare in modo che i lavori in corso siano subito portati a termine senza i ritardi che purtroppo in molti casi ci sono stati in poco tempo poi procederemo ad un sistema di monitoraggio pressoché costante sia sugli stessi edifici sia sul territorio la questione mazzini fermi parliamo di scuole sarà oggetto se necessario di nuovi controlli ed una nuova perizia affinché si abbia il panorama più completo e reale possibile della situazione e quindi decidere senza perdere altro tempo sul da farsi io a concluso De Angelis non sono chiuso al confronto anzi il contrario i cittadini saranno coinvolti e protagonisti ma resta il fatto che per me come uomo e come pubblico amministratore la sicurezza resta una priorità soprattutto di coscienza venerdì 21 aprile alle ore 16 nella sala consigliare del comune di Avezzano presentazione del nuovo libro di Antonia Tosini dal titolo nella cabina del proiezionista il libro racconta di un giovanissimo proiezionista del film delle vecchie sale cinematografiche della sua famiglia dei film come bianco e nero dei registi degli attori nazionali ed internazionali sulle tracce del passato viene raccontata la dura realtà di una Italia che usciva dalla guerra e si avviava alla ricostruzione e dalla rinascita erano gli anni 40 50 60 e l'autrice ha raccontato storie vere ed ambientate tra Avezzano e Pescara presenteranno il libro i giornalisti Filippo Fabrizi e Pino Veli ingresso e libero CNA Avezzano in collaborazione con CNA Chieti e CNA Rezzo insieme per raggiungere l'obiettivo unico di presentare il prodotto Italia alla fiera internazionale Tutto Food che si svolgerà a Milano capitale economica italiana dall'8 all'11 maggio evento internazionale B2B che dedica attenzioni alle nuove tendenze e momenti formativi per le aziende del settore quattro giorni di eventi convegni dibattiti scientifici sulla nutrizione nuove aree dedicate all'esposizione delle eccellenze italiane il salone dell'agroalimentare e del buon mangiare Tutto Food richiama ben 70.000 visitatori un terzo dei quali stranieri oltre 3.000 espositori di cui 500 internazionali e 7.000 marchi rappresentati così Vincenzo Vitale responsabile marketing di Vital Natural di Pescasservoli ringrazio innanzitutto il CNA per l'impegno finalizzato al raggiungimento dello scopo la scelta aziendale di partecipare a questo grande evento viene dal fatto che Milano è la capitale economica dell'Italia e la porta d'ingresso ad Europa qual è la migliore occasione per il prodotto italiano a farsi conoscere in campo nazionale ed internazionale questa manifestazione è ben organizzata ed è possibile incontrare clienti e boiere di tutto il mondo gli amici del Movimento 5 Stelle di Avezzano rendono noto di aver ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni di cittadini indignati per l'abbattimento degli alberi in Via Napoli ad Avezzano vogliamo pensare scrivono che l'abbattimento abbia valide ragioni tecniche ed agronomiche e che gli alberi abbattuti saranno rimpiazzati tuttavia al di là della perdita degli alberi pregiati ritengono che alla crescente sensibilità dei cittadini per la qualità dell'ambiente urbano e la tutela del verde pubblico un'amministrazione comunale debba dare risposte più efficaci specificano che se alla guida della città se loro alla guida della città avrebbero approvato il piano del verde urbano che annunciato l'ultima volta dall'assessore Stati a febbraio del 2016 nonostante fosse stata data per l'imminente la sua approzione è ancora in itinere per rispetto alla legge avrebbero cominciato e comunicato ai genitori informazioni dettagliate sulla tipologia e di luogo dove è stato messo a dimora l'albero che il comune deve piantare per ogni neonato avvizzanese avremmo censito infine e segnalato con apposita targhetta gli albori monumentali cioè quelli che la legge italiana tutela in quanto dotati di particolare pregio naturalistico paesaggistico storico e culturale calcio serie D un pareggio che forse sta un tantino stretto all'Avezzano reduce da una settimana intrisa di polemiche che hanno rischiato di destabilizzare l'intero ambiente ad andare per primo vantaggio sono stati i marsicani ma una disattenzione a 5 milioni al termine ha innescato il contropiede ospite che è culminato con la rete del pareggio siglata da Olivetti nel servizio che segue le azioni salienti della partita e le dichiarazioni del tecnico ospite greco silenzio assoluto in casa del bianco verde per decisione del presidente Paris che ha ribadito di non voler rilasciare l'intervista fino al termine di questo campionato vediamo come è maturato il pareggio una vittoria sfumata a 5 minuti dal termine quando già i soliti pochi tifosi presenti stavano facendo la bocca ai tre punti una palla persa a metà campo una disattenzione difensiva e addio a tutto il ben fatto la settimana bianco verde intrisa di polemiche e di piccoli veleni si chiude con un pareggio che forse sta un tantino stretto ai marsicani ma dal momento che chi sbaglia paga alla fine il punticino si può accettare serenamente tra infortuni e squalifiche sono numerose le assenze tra i padroni di casa ma Tortora riesce ugualmente a mettere in campo una squadra con tanta buona volontà tra le due la più motivata dovrebbe essere l'ostiamare ma la prima iniziativa è dei biancoverdi dalla lunetta del corner spiove in area un pallone per Padovani che contrastato da un avversario non può fare di più di quello che abbiamo appena visto la risposta a De Viola arriva anch'essa da un calcio d'angolo Vano il centravanti anticipa il marcatore diretto e di testa per poco non la sbatte dentro poi si fa male Padovani e l'Avezzano perde un importante punto di riferimento fallo su Deramo al ventiquattresimo tocco corto di Sassarini sul calcio di punizione e destro ancora di Deramo che impegna l'estremo ospite alla parata centrale spinge ancora l'Avezzano che due minuti più tardi si rende pericolosa con Marolda che lotta spalla a spalla con Piroli e tira ma 4-8 così si chiama il portiere ospite devia sul fondo al quarantesimo e l'Ostiamara sfiorare il vantaggio con Vano che in area calcia a colpo sicuro ma sulla riga di porta sbuca Sassarini che allontana la minaccia e in chiusura di tempo ancora un pericolo portato dai laziali che vanno via in contropiede Assisi scivola e il tiro di Astolfo finisce sul palo nei pressi c'è Attili che colpisce di testa ma incredibilmente non riesce ad inquadrare la porta ormai vuota e passiamo adesso alla ripresa l'Ostiamara parte determinata e al quinto su cross di Coco Lewandowski si incarta ma Attili non riesce ad approfittare dell'inatteso regalo e l'Avezzano si salva per il rotto della cuffia la risposta dei Biancoverdi arriva 4 minuti più tardi ed è una risposta che lascia il segno Marolda va via in contropiede e cede a Leto l'incombenza del tiro che però non parte perché ha il pallone sul destro nuovo appoggio a Marolda che carica al sinistro e insacca una rete da centravanti vero a conclusione di un'azione di ottima fattura l'Ostiamara accusa il colpo e poco dopo ancora Marolda attenta alla porta avversaria ma il suo destro al volo non è preciso poi entra di Genova che al 36esimo governa palla con classe e di taccola offre a Leto che però viene stoppato in estremis poi Leto viene atterrato in area ma l'arbitro facendo che è tutto regolare tra le proteste dei locali un destro di Bellini dal limite finisce alto sopra la traversa e poco dopo i laziali pareggiano Leto perde palla sulla tre quarti Colantoni recupera sulla sinistra e crossa in area dove Olivetti brucia tutti sul tempo e insacca a fil di palo delusione nelle file bianco-verdi anche perché ormai mancano pochi minuti al termine giusto il tempo per vedere questo destro di controbalzo scagliato da Di Genova che manda la palla a Sibilare non lontana dai pali in sala stampa non si presenta nessuno dell'Avezzano l'unico a parlare è l'allenatore dell'ostia a mare anche lui abbastanza parco di parole ma a tre giornate dal termine gli argomenti sono stati tutti ampiamente sviscerati Alfonso Greco tecnico dell'ostia a mare l'Avezzano è in silenzio stampa parlano gli ospiti allora una partita vera si pensava siamo a fine campionato magari le squadre si adagiano invece voi l'obiettivo ce l'avevate quello dei playoff però non siete riusciti a centrare il successo sì potremmo sfruttare meglio quelle due o tre occasioni che ci sono ci sono capitate poi abbiamo subito gol forse nel momento migliore quando stavamo spingendo diciamo siamo stati bravi proprio dopo la reazione a trovare il pareggio però è stata una partita vera una partita combattuta ma la soddisfa il pareggio? sinceramente il primo tempo non mi sono piaciuti tanto devo dire la verità poi il secondo tempo un po' meglio però si poteva far meglio cambi forzati da una parte dall'altra nel primo tempo al vostro che cosa è successo? ma credo un problema al ginocchio poi vediamo dovrebbe essere un problemino al ginocchio situazione playoff quante possibilità ci sono e con quale spirito li affronterete? mi sembra oggi abbiamo guadagnato pure qualche punto sulla sessa quindi ce lo giochiamo fino alla fine poi vediamo dove arriviamo era questo l'obiettivo iniziale dell'ostia? no noi eravamo partiti con altri obiettivi quindi tutto quello che stanno facendo è tutto merito dei ragazzi che stanno facendo hanno fatto un grande campionato un giudizio sull'Avezzano che ha attraversato una settimana densa di polemiche di veleni ma è difficile giudicare da fuori so che c'erano dei problemi però oggi la squadra mi è sembrata una squadra viva che ha lottato che ha giocato per vincere per provare a vincere quindi poi problemi sinceramente non posso parlare di quello che succede qua siamo alla fine del campionato oramai che qualitativamente che giro ne è stato questo vostro? è stato un campionato un campionato combattuto le prime 3-4 squadre che stanno combattendo per vincere il campionato è un po' più diciamo livellato verso il basso dove ci sono tanti punti di differenza diciamo provi a fare un pronostico ultima domanda di solito le squadre sarde sono quelle che lottano solo per salvarsi invece l'Arzachena quest'anno sta facendo sul serio ecco un pronostico chi la spunterà alla fine? ormai questo è un campionato che si gioca fino all'ultima giornata io pensavo che Riedi penso ancora sia la squadra più forte quindi chiaramente l'Arzachena sta là farà di tutto per vincere il campionato perché sta meritando di essere in quella posizione Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del 3 giornali la potrete rivedere integralmente sul nostro sito www.antena2.it oppure sulla nostra pagina facebook Antena2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie dell'attenzione a risentirci Grazie a tutti Grazie.